La corrente pittorica di Giovanni Omiccioli è detta arte contemporanea. La sua pittura si distingue per la scorrevolezza e la corposità delle pennellate. Fu esposto alla nona biennale calabrese d'arte del 1949. Egli fu un esponente della scuola romana, frequentò molto con l'ambiente calabrese che celebrò in molti sui dipinti. Dalle ricerche si sapeva solo che dipinta un quadro raffigurante e un cantiere industriale.